Valeria, infatti ti ringraziamo che sei rimasto fino all'ultimo, guarda, ce ne siamo accorti stamattina che sei rimasto fino all'ultimo. Comunque grazie davvero, serata stupenda. Sicuramente ti faremo una recensione e te la mando e magari se c'è qualche video, qualche foto che hanno fatto i nostri amici in cui si sente la musica e tutto, te lo mandiamo privatamente e vedete se sponsorizzarlo o no. Un abbraccio. Grazie mille.